Allora andiamo a incominciare con la trasmissione sportiva vera e propria, abbiamo detto che parleremo di calcio, anche se di calcio giocato ce n'è stato praticamente nulla, parleremo anche di nuoto, di rugby e di atletica. Andiamo a vedere adesso il quadro dei risultati ma soltanto del campionato di Serie D dove non si sono giocate neanche tutte le partite, tutto questo a causa della neve e del ghiaccio che non ha consentito la disputa delle partite di calcio. La federazione abruzzese ha infatti stabilito a priori che questa domenica non si sarebbe giocato su nessun campo, quindi rinviati tutti i campionati dall'eccellenza alla terza categoria. Si è giocato in Serie D, su qualche campo sì, su qualche campo no. Allora andiamo a vedere il quadro completo del girone nel quale milita anche l'Avezzano, il girone G, si è disputata la prima di ritorno. A Muravera, Arzacchena batte Muravera 3-0, al Balonga Città di Castello 3-2, rinviata per il maltempo Poligno Flaminia, Monterosi L'Aquila 3-1, a Sant'Eodoro Lanusei batte Sant'Eodoro 3-0, Latte Dolce Sassere Ostiamare 1-1, Trestina Rieti 1-1, Nuorese Torres 1-0, Avezzano Sansepolcro, come detto rinviata per il ghiaccio. Andiamo a vedere la classifica, in testa c'è il Monterosi con 38 punti, Rieti 37, Alzacchena 35, Ostiamare e L'Aquila 34, Albalonga 33, Nuorese 31, Avezzano Sansepolcro e Trestina 25, Flaminia 22, Lanusei 19, Latte Dolce Sassari 16, Foligno e Sant'Eodoro 14, Muravera 13, Città di Castello 11, Chiude la Torres con 8 punti. Allora incominciamo con la serie di servizi, il primo è dedicato alla partita non disputata tra Avezzano e Sansepolcro, una partita che in teoria si sarebbe anche potuta giocare, ma il terreno ghiacciato, il fondo ghiacciato dello Stato di Marsi ha consigliato l'arbitro a rinviarla. Abbiamo realizzato delle interviste con il presidente dell'Avezzano Parisi, con l'allenatore Tortora e poi vi proporremo anche una intervista breve con Massimo Assisi, l'ultimo arrivato alla corte di Pino Tortora. Vediamo questo primo servizio. Una sceneggiata che è andata avanti per oltre mezz'ora, una quarantina di minuti, tutti in campo, le due squadre a fare riscaldamento, gli arbitri, la terna arbitrale lo stesso, poi due minuti prima del 14.30 il rendezvous con i due capitani, l'arbitro decide che non si gioca. Avrebbe forse potuto deciderlo prima, visto che in campo c'era stato anche lui per almeno mezz'ora. Presidente Parisi, partita rinviata, che cosa significa? Quale danno comporta la squadra e la società? Credo che non comporti nessun danno, perché giocare su un campo così ghiacciato non era preferibile dopo che la squadra è stata attrezzata per fare un grande gioco di ritorno. E quindi è giusto posticiparla, credo che con ogni probabilità si dovrebbe giocare tra il 18 e il 19 di gennaio. Adesso abbiamo due trasferte, quindi prima del ritorno al De Marzi con l'Alba Longa dovremmo appunto avere questo turno infrasettimanale con il Sansepolcro. Questa è la previsione, perché il regolamento dice che entro le due settimane dalla data di rinvio. Sempre che Foligno continui a disputare questo campionato? Credo di sì, perché oggi a Foligno la partita è stata rinviata semplicemente per il campo impraticabile. Hanno allestito una squadra e neanche una squadra con atleti juniors, quindi proveranno a salvare Capra e Cavoli. Hai detto che ti aspetti un grande girone di ritorno da questa squadra. All'andata tre partite, nove punti, non sempre con il gioco che ci si aspettava. Pensi di fare la stessa cosa a ritorno? Ma io ho rafforzato la squadra con cinque elementi. Ne sono partiti solo due, quindi abbiamo il concetto della panchina lunga finalmente, l'imbarazzo della scelta, quando vedo un Padovani in panchina, Colombo in panchina, altri giocatori importanti come di Genova, sempre tra le seconde scelte al fischio d'inizio, significa che è stato fatto un buon lavoro. L'ho già detto prima delle festività, dieci punti in più del girone di andata, significa passare dai venticinque punti ai trentacinque punti, con un totale di sessanta punti alla fine del campionato. Se così sarà, allora vedremo qualcosa di bello nel finale. Sessanta punti significherebbero playoff? Beh, sessanta punti, poi non so se significano playoff oppure sesto, settimo posto, però insomma mi auguro che la squadra riesca a dimostrare quello che in tante circostanze non è riuscita a concretizzare nella prima fase di campionato. Qui alle nostre spalle c'è il tabellone con gli sponsor, ne manca uno però, quello che aveva iniziato il campionato come main sponsor, la Sterpetti. Che cosa è successo, che cosa è cambiato? Abbiamo risolto il contratto dal mese di dicembre, quindi dal 31 dicembre non è più il main sponsor. Nelle prossime settimane comunicherò il nuovo main sponsor dell'Avezzano Calcio Prima Squadra, un'azienda probabilmente nel settore edile oppure un'altra concessionaria di auto importante del territorio. Vi siete lasciati in buoni rapporti o c'è stato qualche screzzo con Sterpetti? Sempre rapporti civili, era che la convivenza non era più possibile per tante ragioni e quindi per una serenità del Presidente, della società e dello spogliatoio è stato meglio così. Quanto può aver influito il rapporto conflittuale con la tifoseria della Curva, visto che loro avevano sposato la causa Sterpetti? Sicuramente può aver influito in qualche modo, però la decisione è proprio della società di voler proseguire serenamente con un grande obiettivo che è sempre quello di puntare al centenario, al professionismo. E dopo il Presidente e l'allenatore Pino Tortola, allora deluso da questo rinvio o no? Dicevo con Paris, siete stati mezz'ora abbondanti a fare riscaldamento, voi la terra arbitrale, ma si poteva prendere anche prima questa decisione o no? Sicuramente sì, io credo che sia stata un po' forse troppo ragionata da parte della Terna perché in effetti il campo era in certi punti veramente una lastra, sarebbe stato pericolosissimo soprattutto per l'inconunità dei giocatori. La partita di calcio tutti l'avremmo voluta giocare oggi perché tra l'altro abbiamo fatto tantissimi sacrifici in questo periodo di feste, quindi eravamo pronti e motivati per affrontare questa partita e chiaro poi in effetti non era possibile disputare una partita di calcio. Senti, una volta il periodo sotto le feste di Natale veniva utilizzato per il richiamo, il cosiddetto richiamo, cioè si ripartiva con lavori sulla forza e poi si ripendeva l'agilità. È ancora così o è cambiato? No, la metodologia dell'elemento è cambiata completamente rispetto agli anni che ho cominciato a giocare io assolutamente, ma anche agli ultimi anni che giocavo qui adesso sono tutti lavori funzionali, lavori anche di forza, ma richiami pochi perché comunque i giocatori adesso arrivano sempre diciamo al top, hanno più professionalità e comunque la metodologia dell'elemento è cambiata. Negli anni si è capito che comunque tutte queste anche corse lunghe che si facevano una volta non producono tutti i frutti sperati. Ti dà fastidio questo rinvio? Ma sì, dal punto di vista della possibilità di giocare la partita per completare il lavoro della settimana sì, però visto come erano le condizioni del campo sinceramente no, perché la mia preoccupazione massima oltre al risultato che è importante sicuramente era rivolta all'incolumità dei giocatori. Senti, è arrivato al tuo servizio anche un ragazzo che conosci, Massimo Assisi, come pensi di utilizzarlo? Sempre e soltanto sulla fascia o anche all'interno? Ma lui nasce come centrale, ma è un giocatore sicuramente che può giocare benissimo anche sull'esterno, destro, visto che è un destro, quindi è stato acquistato in funzione di questo, ma anche nell'eventualità dovessimo subire qualche infortunio, speriamo di no, sui centrali, insomma fra Tabacco, Menna, Taric, che sta giocando centrale, però sicuramente è un giocatore di grande affidabilità, ha già disputato un campionato importante l'anno scorso a Pinerolo, quest'anno viene dalla Lega Pro, quindi è già giocato quest'anno con l'Agracass, è stato contento di seguirmi perché praticamente è un ragazzo che ho avuto per tanto tempo e sono contento anch'io. Senti, all'andata le prime tre partite fruttarono nove punti, Conti speri di rifare la stessa cosa al ritorno? No, basterebbe anche di meno e però recuperate quelle che abbiamo perso magari a volte in maniera inaspettata, in maniera isperata. La squadra secondo me in questo momento è in grande crescita, la squadra è pronta per affrontare un campionato di ritorno alla grande, ci crediamo di poter raggiungere un obiettivo importante anche se molto difficile perché è un distacco, però siamo convinti di potercela fare perché il gruppo si è cimentato, gli acquisti sono stati azzeccati, messi nel punto giusto sia dal punto di vista tecnico che morale, quindi speriamo veramente di regalare una grande soddisfazione alla città, a tutti i tifosi che ci stanno seguendo, al Presidente che in effetti sta facendo tanti sacrifici. Approfittiamo di questa circostanza per presentarvi anche l'ultimo arrivato, Massimo Assisi. Allora, Terzino, Centrale, non sappiamo se l'uno o l'altro, chi è Massimo Assisi? Fatti una scheda da solo. Salve, sono Massimo Assisi, nato a Crotone 5 maggio 1997, ho giocato nel settore giovanile del Crotone, sono ancora sotto contratto con il Crotone e ora sono in prestito all'Avezzano. Preferisci giocare Centrale o Esterno? Per me è la stessa cosa, giocare sia Centrale che Terzino non ci sono problemi, l'importante è che giochi. La tua qualità migliore qual è? La velocità, la lettura di gioco e leggere subito il mio avversario. Allora, tu hai giocato nel Crotone, il Crotone è arrivato addirittura in Serie A con Iuric, che cosa ricordi di quella squadra, di quella gente che tu hai lasciato lì? È un bellissimo gruppo, anzi spero di arrivare ad altri livelli anche io, comunque è un grandissimo mister e un grandissimo gruppo. Tortola lo conoscevi già? Sì, sì, già lo conoscevo e mi ha allenato in Primavera, negli allievi e quindi ho seguito lui per venire qui ad Avezzano. Hai mai fatto qualche rimprovero tosto, forte? Certo, 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 che me l'ha fatto. Però lo segui sempre? Certo, certo. Per chi tipi tu, per il Crotone in Serie A? Certo, la mia città. Sicuro? Certo, sicuro. E per il calcio è tutto o quasi, poi ci sarà comunque il servizio dedicato ai bimbetti della Marsica Calcio. Adesso parliamo di nuoto, nuoto sincronizzato, quello del pinguino. C'è stato uno stage nei giorni scorsi e noi siamo andati a registrare il servizio che vi proponiamo adesso. Migliorarsi sempre, questo è un po' lo slogan del pinguino, che non perde occasione per acquisire nuove conoscenze. Noi siamo venuti a trovare i nostri amici qui nella piscina alla vigilia di Capodanno, perché anche in questa circostanza stanno lavorando. Si lavora sul sincro e sono riusciti gli amici della pinguina a portare qui nella loro struttura un personaggio importante che è qui al mio fianco. Ma il personaggio ce lo presenta Francesca Sabatini, responsabile del sincro qui al pinguino. Chi avete invitato oggi? Noi oggi abbiamo in questa bellissima struttura Rossella Pibiri, è la responsabile nazionale ComSport, nonché anche allenatrice dell'Uni Cusano, Aurelia Nuoto. È qui con noi, è una giornata ricca di formazione. I nostri tre gruppi di nuoto sincronizzato li abbiamo divisi in tre fasce, quindi ora abbiamo appena terminato la formazione con le ragazze della categoria ragazze junior, con cambi di formazione e sequenze. Ora toccherà il gruppo delle medie, dove appunto Rossella ci darà dei consigli tecnici appunto sul percorso che loro dovranno fare quest'anno e anche con l'ultimo gruppo delle categorie giovanissime e Rossella appunto vedrà il loro livello tecnico e ci darà dei preziosi consigli. Infatti la ringrazio e ringrazio anche la Pinguino per questa possibilità. Ed eccola qui, Rossella Pibiri mi ha detto che l'accento va sulla prima e sulla terz'ultima, si dice così nella lingua italiana. Allora, lei è venuta qui e che cosa ha trovato? Sta istruendo gli istruttori che a loro volta dovranno riversare le loro conoscenze sulle ragazze. Ecco, che livello ha trovato? Allora, è già la seconda volta per me che sono qui ospite della Pinguino. L'anno scorso avevamo fatto un corso di formazione della CompSport solo per quelli che poi sono diventati dei tecnici. Quest'anno invece abbiamo avuto questa idea, anzi Francesca ha avuto questa idea veramente interessante di unire quella che è la formazione per i tecnici a quella delle atlete. Magari oggi abbiamo fatto, per me era la prima volta che vedevo queste ragazze in acqua, le ho viste al campionato CompSport dello scorso anno, comunque sono molto migliorate e cerco con questi piccoli campus, questi piccoli incontri, di farle migliorare ancora di più, di creare magari delle coreografie più interessanti. Oggi abbiamo lavorato più che altro sui cambi di formazione e quindi quei disegni che poi dall'esterno si vedono che formano proprio le atlete dentro l'acqua. E quindi stiamo continuando a lavorare in questo senso sia per migliorare la parte tecnica sia per migliorare la parte artistica. E devo dire che stiamo facendo un buon lavoro e che comunque speriamo che i risultati poi si vedano alle gare. Sicuramente. Quanto è difficile insegnare, trasmettere le vostre conoscenze, le vostre istruzioni al gruppo formato da 7, 8, 10 persone e quanto invece al singolo? Sono difficoltà diverse, nel senso che per quello che riguarda la squadra la cosa difficile è cercare di ottenere sempre il massimo dell'impegno e il massimo della performance contemporaneamente da tutti gli otto gli atleti. Perché magari hai sempre un giorno una ragazza che ha la febbre, un giorno non viene perché deve studiare, magari un giorno ha litigato col fidanzato, un giorno si sente stanca, un giorno si sente triste ed è difficile proprio ottenere il massimo della performance da tutti quanti gli atleti. Nel momento in cui ciò avviene si ha proprio un miglioramento netto evidente. Per quello che riguarda il singolo in un certo senso è più facile perché non c'è bisogno sincronizzare o unire il gruppo ma è più difficile fargli fare poi quel salto di qualità. Quindi col singolo bisogna puntare e lavorare più su quella che è la parte tecnica, quindi il miglioramento proprio dei movimenti specifici del nuoto sincronizzato. Per quello che riguarda la squadra è più da sincronizzare e pulire. Lei ha lavorato sia con i maschi che con le femmine, più difficili i primi o i secondi? Allora io ho tanta esperienza anche col sincro maschile perché è dal 2010 che alleno Giorgio Minisini e mi sono occupata sia per i mondiali di Cazzane sia per questi mondiali e l'anno scorso per gli europei anche di collaborare con Roberta Farinelli per il doppio misto. Per quello che riguarda io sono stata molto fortunata perché Giorgio è un atleta eccezionale sia dal punto di vista proprio tecnico sia dal punto di vista di motivazione e di allenamento. Con lui è più facile lavorare perché essendo un ragazzo la parte emotiva è meno prorompente rispetto a una ragazza. Cioè Giorgio riesce più che qualsiasi altra ragazza a lasciare i problemi della vita quotidiana fuori dallo spogliatoio ed entrare e concentrarsi solo su quello. La difficoltà che c'è per esempio con Giorgio è più dal punto di vista della flessibilità. In genere la flessibilità per una ragazza è abbastanza intuitiva, abbastanza scontata, per lui è più faticoso lavorarci e diciamo i miglioramenti si hanno più a lungo termine che non nel breve termine. E allora quanto tempo ci vuole per formare un atleta a livello internazionale? Valido? È almeno un ciclo olimpico, quindi parliamo di quattro anni. Beh è un bel po'. Allora Francesca, quattro anni per tirare fuori un atleta capace di gareggiare e di primeggiare a livello internazionale. Voi qui avete incominciato da poco, però sentendo Rossella mi pare che siate già a buon punto o no? Io intanto la ringrazio, stiamo lavorando tanto, già sono sette anni che lavoriamo con le atlete, da dieci il primo anno siamo passati a quindici e ora abbiamo quarantadue atlete. Quindi ora che vedrà appunto le atlete più piccine è normale che con quattro o cinque anni cercheremo di portarli comunque ad un altro livello. Speriamo appunto di raggiungere questo obiettivo, ce lo prefissiamo ovviamente. Di solito in montagna si fanno tutti altri sport, in città grandi come Roma è più semplice trovare specchi d'acqua nei quali potersi misurare. Però questa è una realtà diversa la Pinguino. Sì, è una realtà diversa, ma la diversità di questa realtà la fanno poi le persone. Quindi l'interesse e la passione che ci mette Francesca e la collaborazione chiaramente che ha col Presidente e con la società, proprio per formare nuovi istruttori, che quello è il punto di partenza, per avere poi una base migliore degli atleti. Quindi il fatto che io sono qui per la seconda volta, diciamo a distanza di pochi mesi, è proprio un sintomo della passione e dell'amore che c'è in questa vasca più che in altre. E quando tornerà? Spero presto. Cambiamo soggetti con Anna Maria e Sara, perché sono due giovanissime, appena 18 anni, anzi neanche 18enne Sara, però ci tiene a dire che ha 18 anni, ma sono già due istruttrici. Allora, che tipo di squadra avete? Che età hanno i vostri allievi? Allora, da quest'anno io ho iniziato a curare la squadra delle ragazze, quindi fascia di età che va dagli 11 ai 17 e per me è stata una cosa nuova perché il primo anno ho iniziato tre anni fa facendo tirocinio con le bambine piccole perché ovviamente si seguono delle tappe e mano a mano, insomma, sono cresciute loro, sono cresciuta anch'io e crescendo insieme, ecco, da quest'anno oltre le atlete della fascia giovanissima, quindi le più piccine, ho iniziato a insegnare anche a loro che sono le più grandi, insomma, è stato un bel confronto perché non sono molto... Hanno quasi l'età tua, no? Sì. E ti danno retta? Certo. Ti contestano mai? Mai. Eh, però hai visto. Tu invece, Sara, che età hanno i tuoi allievi? Sì, allora, io mi occupo del gruppo delle più piccole, quindi ho quelle che hanno dai 5 agli 8 anni più o meno, alcune anche più piccole e... Non è presto a iniziare a quell'età? No, prima si inizia e meglio è perché c'è più tempo appunto per crescere e imparare nuove cose. Ma l'apnea è importante, hanno il fiato a sufficienza per restare sott'acqua? L'apnea è importantissima, infatti noi oltre a curare il nuoto sincronizzato curiamo anche il nuoto che è fondamentale appunto per imparare l'apnea al meglio. Quanto tempo ci passi qui in piscina? Io, tanto, prima ci passavo ancora più tempo, adesso con loro, ci allineiamo due volte a settimana con le... con il gruppo delle più piccole, invece poi mi occupo anche delle agoniste, con cui ci allineiamo tre volte a settimana. Anche tu stesso ritmo? Io un po' di più, sto qua 15 ore a settimana perché curo tutti i gruppi del sincronizzato in maniera minore, le giovanissime e le agoniste e diciamo invece sono l'istruttrice fissa delle ragazze. Quindi passeggiate in piazza non se ne va? Mai, no, tra scuola e lavoro, però per noi è un piacere. E chiudiamo con Valeria, altra istruttrice, che ha la squadra di qual'età? Delle bambine dai anni 2006, 2007 e 2008, quindi il gruppo delle medie, possiamo dire. Quanti ce l'hai? Tutto sono 16. Quante volte a settimana li fai allenare? Loro si allenano tre volte a settimana, per un'ora e mezza, con mezz'ora di palestra e poi un'ora di nuoto, suddiviso in nuoto tecnico, quindi valutiamo la tecnica del nuoto e poi miglioriamo anche soprattutto il sincronizzato e quindi le varie tecniche appunto nel sincro. Non si stanca, non ti dicono mai, basta non ce la faccio più. Sì, però la loro voglia è talmente tanta che alla fine riescono anche a superare tutto e ad allenarsi, anche a divertirsi tra di loro. Ti diverti più tu o loro? Eh, a volte più io. Sì, sì. Con le temperature che sta facendo registrare questo inizio di gennaio, questo inizio d'anno, è impossibile giocare all'esterno, ma al coperto di un capannone, di un telone, si può giocare. È quello che fanno i bimbetti della Marsica Calcio. Noi siamo andati a trovare il gruppo di Alessio Como, gli esordienti del 2006. Torniamo sui campi della Marsica Calcio. Fuori fa freddo, ma c'è la struttura al coperto. E qui troviamo i ragazzini della categoria esordienti primo anno. Siamo con Alessio Como, che li cura. Non sono tutti, perché magari qualcuno ancora sta smaltendo i postumi del Capodanno, no Alessio? Sì, vabbè, innanzitutto buon anno a tutti gli sportivi. Chiaramente, come vedi, Plinio, sono pochi. Chi è ancora fuori per le vacanze? Molti, comunque, sono malati. La prima influenza, i primi freddi, quindi noi, per fortuna, come detto, abbiamo la possibilità della tensostruttura. Abbiamo a disposizione due campi, quindi c'è sempre possibilità di fare allenamento. Io dico a loro, piove, fiocca e tira vento, si fa sempre allenamento. Vabbè, è giusto. Allora, andiamo un po' a conoscerli e a riconoscerli. Come ti chiami? Francesco. Francesco? Marcelli. Ebaduele Lucci. Francesco D'Andrea. Marco Tosini. Giovanni Bussi. Federico Lancia. Riccardo Rametta. Carlo Pellegrini. Matteo Tucci. Allora, di questi ragazzi noi non sappiamo quasi niente. Alessio Como. Ecco, partiamo da lui. Che ci puoi dire? Che fa? È bravo? È buono? È cattivo? Si impegna? Allora, la maggior parte dei ragazzi che sono qui sono tre anni che li alleno, quindi riconosco forse meglio io che i genitori. Qualcuno invece è il primo anno che è inserito in questo gruppo. Come dicevo prima ne sono parecchi assenti e sono una quindicina di 2005 e poi c'è anche il gruppo esordienti secondo anno che allena Felice e Fidanza che sono altrettanto una quindicina quindi è un gruppo bello consistente. Che tipo di campionato fanno questi? Allora, loro hanno un campionato 9 contro 9 fair play, c'è un auto arbitraggio, c'è una classifica meritocratica, non c'è un vero e proprio campionato. Poi alla fine dell'anno si stilerà una classifica che prende sia il punteggio della gara ma anche, come ho detto prima, una classifica meritocratica. Allora, dicci qualcosa di lui per esempio. Allora, vabbè, parlare singolarmente... Ma noi vogliamo conoscerli singolarmente. Allora, vabbè, innanzitutto sono tutti bravi ragazzi, per fortuna quelli che sono meno bravi non ci sono oggi, no, a parte i scherzi. Sono tutti ragazzi educati e soprattutto quello è importante e si cerca di migliorare. e Marcelli... Ecco, che ruolo per esempio lui? Eh, lui può ricoprire vari ruoli, sia difensore che centrocampista. Quest'anno viene più impiegato come difensore. Passiamo avanti, dai, qualcosa per ognuno di loro. Allora, Emanuele è una new entry e inizialmente aveva scelto di giocare in mezzo al campo, però la sua indola era di fare il portiere e con ottimi risultati direi perché è un ragazzo che si impegna tantissimo. Giamma avanti. E Francesco D'Andrea, anche lui sono molti anni che lo alleno. E lui, diciamo, il primo anno lo impiegavo come attaccante. e invece adesso regista in mezzo al campo, all'apirlo, diciamo. E scusate se è poco, andiamo avanti. Allora, Marco Tosini è sempre un ragazzo che, vabbè, come dicevo, la maggior parte sono tre anni che lo alleno. Anche Marco è un ragazzo che può essere impiegato su più ruoli, sia come difensore che come centrocampista di fascia, quindi come Como. Eh, appunto. Andiamo avanti. Questo qui? Giovanni Bussi. Lui è un giocatore d'attacco, un esterno. Un esterno d'attacco può coprire sia... Alla destra, alla sinistra. Sì, alla destra, alla sinistra, e speriamo che possa diventare un ottimo attaccante esterno. Andiamo avanti, ne mancano ancora quattro. Questo qui? Allora, Federico Lancia è un 2006, lui si allena con il gruppo dei 2005 e 2004. Fino all'anno scorso era allenato dal mister Antonio Angelucci e quest'anno abbiamo fatto una promozione. È salito nel... La categoria superiore. Ecco, quindi già che è stato promosso è un successo. Andiamo avanti. Questo biondino? Eh, Riccardo Rametta, lui è il primo anno che sta con noi, viene da un'altra scuola calcio. Prevalentemente un attaccante centrale, quindi un bomber numero nove. Un centro avanti. Invece questo ciuffo biondo? Eh, questo ciuffo biondo, Carlo Pellegrini. E lui può ricoprire non solo vari ruoli del campo, ma è bravo anche in porta. Non ci crederai, Plinio, ma è bravo anche in porta. Quindi se ci dovesse stare l'espulsione del portiere, lui è pronto? Lui è prontissimo. È un mancino. E dico poi che i mancini sono molto rari. Io che ho giocato una vita a sinistra, pur essendo destro, quindi devono impegnarsi perché c'è spazio per loro. E chiudiamo con? Matteo Tucci, anche lui diciamo è un nove, è un bomber, però molte volte lo impiego anche come centrocampista, è un generoso. E questo è il gruppo che abbiamo trovato in questa circostanza. Cambiamo sport, adesso parliamo di rugby, gente dura, quella che gioca, i ragazzi che giocano a rugby si allenano sempre praticamente, con ogni tempo, piove, nevica, tiravento, loro ci sono sempre. E appunto il loro detto è che bisogna allenarsi anche quando fa freddo. Noi siamo andati a realizzare questa intervista, erano le 19.30 di sera, faceva un freddo cane, ma i giocatori erano tutti sul campo agli ordini dei due allenatori. Vediamo il servizio. Si dice che dopo ogni caduta bisogna rialzarsi e il rugby avezzanese, il rugby marsicano, ha messo in pratica diverse volte questo assunto. Se si cade, quando si cade, bisogna rialzarsi e in 40 anni di storia, perché tanti sono fra poco, il rugby avezzanese ha raccolto anche tante soddisfazioni. La società addirittura ha rischiato anche di sparire, ma grazie a persone come Alessandro Seritti, che ora è presidente, e tanti altri suoi amici, è stato salvato tutto, è stato salvato il titolo, ma non soltanto. Ed ora, dopo un anno scorso, nel corso del quale avete raggiunto, Alessandro, una salvezza un po' stiracchiata, quest'anno la salvezza diciamo che dovrebbe essere abbastanza tranquilla. Però il progetto è un po' più a lunga scadenza. Innanzitutto grazie di onorarci della vostra presenza e di Antenna 2 per questo inizio dell'anno, anno fondamentale per la nostra società, perché, come hai accennato te, ricorre nel 2017 il quarantennale dell'Avezzano Rugby, vale a dire del rugby ad Avezzano e nella Marzi. Scadenza che noi vogliamo onorare nel corso di tutti i 12 mesi del 2017, con varie iniziative che non saranno soltanto di carattere sportivo, ma saranno anche di carattere sociale e culturale, con diversi eventi che organizzeremo per ogni mese dell'anno e che vi terremo informati in modo di avere anche la vostra presenza. Sotto il profilo agonistico sportivo, come hai detto te Plinio, lo scorso anno l'obiettivo era una salvezza che abbiamo raggiunto alla penultima giornata di campionato. Quest'anno siamo partiti per fare un campionato assolutamente più onorevole e assolutamente più divertente per tutti i nostri ragazzi. Ad oggi che mancano due giornate al girone di andata, occupiamo il terzo posto in classifica a sole due lunghezze dalla prima e mi permetto di dire senza nessuna presunzione che se non succedono situazioni assurde, la nostra salvezza dovremmo già averla messa in cascina. E quindi poter giocare senza la pressione di un risultato a tutti i costi, ma riteniamo che una maggior libertà mentale possa portare risultati sportivi migliori. E quindi abbiamo detto ai ragazzi di continuare ad allenarsi e divertirsi senza mettere limiti alla provvidenza, perché qualunque cosa dovesse avvenire da oggi fino alla fine del campionato è tutta esperienza che facciamo in più noi società e i loro giocatori. Nella premessa ho detto che grazie al vostro operato, il tuo e di qualche tuo amico, è stato salvato il titolo, è stato salvato il rugby ad Avezzano. Se non fosse successo quello che tutti sappiamo, cioè che voi, il vostro gruppo di amici, si fosse impegnato in prima persona tutti quanti per salvare questo titolo, che cosa sarebbe successo dopo che comunque era stato fatto un impianto del genere? Che fine avrebbe fatto tutto questo? Ma questo non saprei dirti in maniera precisa, so soltanto che noi abbiamo rilevato una situazione importante, ma grazie al bene che vogliamo tutti quanti al nostro sport, non soltanto l'attuale dirigenza, ma anche la vecchia dirigenza si è trovato un punto d'unione per portare avanti il discorso rugby ad Avezzano. Quindi dall'anno scorso ci siamo messi al lavoro e ti ripeto, grazie a tutti, grazie anche a chi è stato prima di noi, grazie a Sonia, grazie ad Angelo Trombetta, abbiamo fatto, ritengo, un ottimo lavoro per riuscire a dare una continuità a questo sport e che noi, gran parte dei soci dell'attuale SRL, ce l'abbiamo dentro perché siamo per la maggior parte ex giocatori, ma anche a tanti simpatizzanti, tifosi, genitori di ragazzi che ci sono stati vicini nell'anno scorso, tanto più quest'anno e i risultati si vedono dai numeri, numeri che portano quasi 100 bambini nel settore mini rugby, vale a dire fino ai 12 anni, una sessantina fra l'under 14 e l'under 18 e una quarantina di ragazzi di prima squadra. Siamo al momento la società abruzzese con maggior numero di tesserati, copriamo tutte le categorie, siamo fare pochi in Abruzzo ad avere quest'onere anche perché portare avanti bambini da 4 anni e mezzo fino a seniores che hanno 40 anni sicuramente è un discorso impegnativo sia sotto il profilo organizzativo che sotto quello economico, ma un'organizzazione oculata, un po' da braccino corto e un po' da ottimizzare le risorse ci fanno stare sereni per il proseguire la stagione e anche per i prossimi anni. Qui alle nostre spalle per concludere ci sono tante fotografie, c'è un po' la storia più o meno recente della vostra società, c'è una fotografia alla quale tu sei particolarmente affezionato? Equisticamente dovrei dire quelle dove sono presente io quando avevo qualche capello in più e qualche anno di meno, ma ogni fotografia che è esposta nella nostra Clubhouse ha una sua storia e ce ne sono una parte minima di tutte quelle che sono state scattate in questi anni. Tant'è vero, ho detto anche a tutti i ragazzi di qualsiasi età che se hanno delle fotografie importanti, parliamo fotografie di squadra, non di singoli, da poter mettere a disposizione, sarà nostro onere poterla stampare su questi supporti ed affiggere nella Clubhouse. La Clubhouse che è il cuore pulsante della società Vezzano Rugby, come di ogni società di rugby, è dove si vive quotidianamente e si mastica il nostro sport, dove ci sono le conviviali, dove si strilla per una vittoria e si sta a testa bassa per una sconfitta, dove si svolge il terzo tempo, un momento fondamentale per tutta l'attività sportiva del rugby di qualunque categoria e quindi è un punto di aggregazione, è un momento... qui dentro viviamo intensamente tutti quanti. Quindi tutte le fotografie che sono esposte qui hanno un loro significato, hanno un loro percorso, hanno un loro senso, ci sono amici che purtroppo ci hanno lasciato nel corso degli anni, mancano persone che hanno iniziato l'attività da pochi anni, ma ognuno di loro è una pietra miliare per il nostro sport e per quello che proviamo dentro e per la nostra passione. Alle otto di sera, con una temperatura sicuramente sotto lo zero, ci si allena lo stesso, almeno i reggbisti non dicono mai di no. Luca Terrenzio, le feste di Natale come le avete impiegate? Diciamo che tra Natale e Capodanno abbiamo sfruttato tre giorni a settimana per allenarci, in modo da non fermarci, in quanto c'è la prima partita subito dopo Capodanno, l'otto gennaio andremo a Catania e non ci possiamo permettere soste. Senti, la truppa, stanno bene tutti quanti? Qualcuno sovrappeso magari che ha esagerato a Natale? No, no, i ragazzi si sono comportati bene, diciamo stanno bene fisicamente, hanno lavorato in palestra nei giorni in cui non c'era allenamento in campo, sono responsabili. Ma alle otto di sera sono sempre tutti presenti? Io vedo qui un numero bello nutrito di presenze. Diciamo tutti presenti no, perché tra impegni di lavoro, alcuni anche con la famiglia, alcuni per il freddo, ci pensano due volte, però diciamo che riusciamo ad allenarci bene. Alberto Santucci, un tantino arrabbiato in questo allenamento, che succede? Non lo so, forse i postumi delle vacanze, quindi ancora c'è qualcuno intorpidito, soprattutto mentalmente più che fisicamente. Senti, allora un attimo lo sguardo sul campionato, terzo posto in classifica, passibile di miglioramento? Beh, sicuramente, quello è l'obiettivo, quello di migliorare sempre, soprattutto perché ci stiamo rendendo conto durante questo campionato che c'è questa possibilità di migliorare. Ci restano da affrontare due partite per finire il giugno d'andata, proprio con le due che stanno davanti noi in classifica, Catania e Civitavecchia, quindi vedremo un attimo che tipo di possibilità abbiamo rispetto a queste due squadre che ci sono davanti. Io credo che ce la possiamo giocare, fino adesso lo abbiamo dimostrato, qualche volta abbiamo avuto un po' di cali di concentrazione in alcune partite che potevano portare un risultato diverso, comunque tutto sommato è soddisfacente questa situazione. 40 anni di attività quasi per il rugby di Avezzano, tu li hai vissuti praticamente tutti. Ecco, la qualità del girone di quest'anno rispetto per esempio all'anno scorso? Beh, l'anno scorso abbiamo fatto un campionato sempre di Serie B, ma diverso perché è strutturato su due semi-girone da sei squadre, quindi non abbiamo affrontato tutte le squadre che hanno partecipato a questo campionato. E quindi è stato anche un po' particolare. Quest'anno è il girone classico che si gioca su tutto l'anno, che preferisco questa situazione qua. Il livello è salito il nostro di livello rispetto all'anno scorso, quindi le altre squadre più o meno stanno lì, siamo noi che siamo migliorati un po' e quindi abbiamo la possibilità di giocarcela. Il reparto della tua squadra che ti dà maggior affidamento è quello che devi assolutamente migliorare? Beh, diciamo che dobbiamo migliorare comunque sempre un po' in tutto, soprattutto nella continuità del gioco. Io vorrei che si giocassero in un rugby fluido, di movimento, eccetera, e non sempre ci riusciamo, anche per una questione a volte di condizione fisica, perché come sai è difficile fare allenare i ragazzi con continuità. Però quanto riguarda i reparti, la mischia, nonostante un numero limitato di giocatori, soprattutto in prima linea, ha dimostrato buona affidabilità già l'anno scorso e anche quest'anno nelle partite fin qui disputate. Con i tre quarti, anche all'esperienza dovuta a alcuni giocatori che sono rientrati quest'anno, è diventato un reparto anche affidabile in quel senso. Diciamo che siamo una squadra che è abbastanza equilibrata in questo senso, però manca proprio di continuità sia nello sviluppo del gioco che anche nel lavoro settimanale che deve essere fatto. Buon 2017! Grazie anche a voi e a tutti gli ascoltatori di Antenna 2, tanto noi ci vedremo sicuramente anche nelle partite che trasmettete nel nostro campionato. Grazie a voi! Grazie a tutti! 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 I corridori, i runner e l'atletica vera e propria. È stato un distacco difficile, cruento. Ma guarda Plinio, io ti dico che io e Marino Di Marco ci credevamo molto in questa cosa. Purtroppo poi sono successe varie cose che ci hanno fatto capire che abbiamo interessi diversi. Noi abbiamo l'interesse di far andare avanti l'atletica, i giovani e tutto quanto, loro hanno altri interessi tipo il Gran Primarsica, Corri d'Abruzzo. Avevamo troppo diversi, siamo troppo diversi. Ci siamo come un matrimonio mal riuscito, niente di... Vabbè, succede nelle migliori famiglie, succede. Piero, Piero Celasani, tu ti interessi dell'atletica, ti interessi della corsa, ti interessi comunque di tenere questa famiglia unita. Ecco, il 2017 come lo vedi? Beh, io mi auguro che il 2017 sia effettivamente l'anno della svolta. Abbiamo dei giovani sicuramente interessanti, che uno è lì dietro, poi magari vai a fare due domande. Credo che comunque i nostri giovani ormai siano ben avviati. Poi magari i tecnici saranno forse più bravi di me anche a spiegare meglio questo aspetto puramente tecnico. Stiamo lavorando anche con il settore master, abbiamo creato un bel gruppo molto affiatato. Per cui, ecco, io ripeto, secondo me è veramente l'anno della svolta per la nostra società. La prossima gara, quella più vicina? Ma guarda, io credo quella più importante forse è proprio quella che mi annunciava prima proprio il Presidente, il campionato regionale di Corsa Campestre a fine febbraio. E a questa conviviale ritroviamo anche la nostra vecchia conoscenza, Marino Di Marco, e ci fa piacere ritrovarlo, lui sa per quale motivo. Ritroviamo Marino Di Marco, ritroviamo l'atletica, perché l'atletica nella Marsica, l'Avezzano in particolare, è stata lui per tantissimi anni. Si parla di una pista nuova, ma di questo parleremo fra poco anche con la Presidente della Fidel regionale, Concetta Balsorio, Marino. L'atletica, tu che l'hai vissuta da 40 anni a questa parte, a che punto è qui nella zona? Siamo sempre molto ottimisti, perché riusciamo ogni anno a portare tanti ragazzi allo stadio e tra questi naturalmente c'è che poi ha particolari attitudini e riesce anche a prevalere sugli altri. Ma non è che ci interessa tanto il campionismo in questo momento. Noi vogliamo che crescano sani, forti, robusti, soprattutto in una struttura che gli consente poi di affrontare anche la quotidianità da sportivi, e questo è più importante di essere campioni a 14 anni. Però abbiamo tanti ragazzi e ragazze, soprattutto, che si stanno dimostrando di essere veramente bravi. Un anno fa, poco più, il matrimonio fra i corridori runner e quelli dell'atletica. Matrimonio che non è andato a buon fine, ci ha detto Ignazio De Micco, il vostro Presidente. Si poteva evitare questa scissione o è stata proprio necessaria? Da parte nostra c'è stato ogni tentativo per evitare questo, perché ci credevamo all'inizio, ci abbiamo creduto durante, poi sono successe delle situazioni particolari che hanno portato a qualche incomprensione. Da parte nostra veramente c'è stata la volontà di voler continuare, però non ci si è riusciti e questo non significa niente, significa che ognuno poi si riappropria di quello che ha. Noi abbiamo 44 anni di storia, che non è storia nostra, è storia della città di Avezzano e questa è la cosa importante, non è Marino, Ignazio, Concetta, Cardinale o i Presidenti, che sono stati tanti e che si sono successe tutti. È la storia di un'intera città e della Marsica, perché poi nell'USA Sporting Club sono venuti a gareggiare tantissimi ragazzi di tutta la Marsica, perciò sì, è un matrimonio non finito bene, diciamo così, ma noi dobbiamo continuare a far crescere i giovani, perché la nostra atletica è quella di far crescere i giovani. E per far crescere i giovani occorre che ci sia una pista di atletica. E noi questa notizia, grazie a Concetta Balsoro, l'abbiamo data qualche mese fa, quindi in anticipo un po' su tutti, perché la spiata, la soffiata, ce l'ha fatta proprio Concetta Balsoro. Quindi lo stadio dei Pini sta per cambiare volto completamente, non look, proprio volto completamente, verrà stravolto, ci saranno grandi novità. Tu ci avevi detto qualcosa qualche mese fa, sei arrivata a raggiungere quello che ti hai riprefisso, merito tuo sicuramente, anche se non tutti ti hanno dato merito. Ecco, parlaci di questo progetto. Sì, sono molto felice e soddisfatta. La nostra città avrà di nuovo uno stadio ad otto corsie, per cui uno stadio che sarà in grado di affrontare manifestazioni a livello nazionale e anche internazionale di spessore, avrà anche una parte della tribuna coperta e un restyling completo di tutto l'ambiente. Tu lo dici così in quattro parole, ma quanto lavoro tuo c'è stato dietro questo progetto? Otto mesi fa il sindaco mi chiese di interessarmi di alcuni aspetti in ambito sportivo. Io ho accolto con molto piacere questo incarico e consentimi di dirlo a titolo completamente gratuito, perché volevo regalare qualcosa a questa città. Ci sono stati otto mesi di duro lavoro, ma alla fine, il 30 di dicembre, abbiamo mandato tutta la documentazione, sia per questo che anche delle altre due strutture, perché comunque dovevano essere inserite sulla piattaforma del CONI per poter accedere ai fondi, e gli ultimi documenti li abbiamo mandati il 30 di dicembre. Di questo sono molto soddisfatta, perché il sindaco mi ha dato la delega inizialmente al turismo sportivo e attualmente anche alle strutture sportive. Senti, tu sei orgogliosa di tutto questo, però si è innescata ultimamente una piccola polemica. Tu hai tanta amarezza dentro di te. È vero o no? Io voglio vedere la prima pietra del nuovo stadio e i lavori in corso degli altri due. Questo non sono altro che il presupposto di un progetto di un raggio molto più ampio, di cui vorrei far dono alla città e che ci consenerà di essere orgogliosi di essere avezzanesi. Quindi la polemica stasera la vuoi evitare? Sì. Ma solo stasera? Prima o dopo ci torneremo? Speriamo di poter fare in modo che invece sarà una grande festa. Un paesaggio tipico invernale con il freddo, la neve e il terreno ghiacciato, mancava il fango, ma ci si è divertiti tantissimo. Parliamo della corsa campestre che si è svolta ad Avezzano, a nord di Avezzano, vicino al velodromo. E qui abbiamo tre rappresentanti della competizione vera e propria. Un adulto, Danilo Bongiovanni, e due ragazzi, Ruggero e Valeria. Allora, Danilo, il vincitore questa mattina è stato Mirko Fantozzi. Ma che tipo di corsa era? Fa parte di un trittico, giusto? Sì, il trittico di corsa campestre che abbiamo promosso noi dell'USA Sporting a Avezzano quest'anno per appunto agevolare la preparazione e gli allenamenti ai prossimi campionati regionali che si svolgeranno già dalla settimana prossima a Pescara. Questo trittico è stato ideato da noi con la collaborazione di Alessandro Barile che lui è uno specialista delle campestre e disegnatore dei percorsi. La prima prova si è svolta il 18 dicembre al panoramico, nel retro del caffè panoramico e abbiamo fatto un ottimo percorso da un chilometro anch'esso spaccato, sei chilometri per gli uomini e quattro per le donne. Parliamo di assoluti, quindi di adulti. La seconda prova si è svolta all'interno dello stadio dei Pini con percorso ricavato da noi lì nel retro dello stadio quindi la pista quella delle mountain bike eccetera e un chilometro spaccato anche quello anche lì ci siamo divertiti perché sali, sali, scendi eccetera e la terza questa di stamattina di fronte al velodromo. Ecco, che tipo di corsa è la campestre? Perché voi spesso state su strada di corsa ne fate tantissime si scivolava stamattina cioè si stava bene in equilibrio o era più dura questa delle altre? No, si scivolava tantissimo è una corsa che è poco a che vedere con la corsa su strada e su pista la corsa campestre è una disciplina che prepara appunto i giovani e meno giovani alle varie gare su pista e su strada perché è una forma, una fase di potenziamento a cui vengono sottoposti diciamo così gli atleti e proponendola come gara è chiaro che è più invitabile quindi noi la proponiamo come una disciplina che è tra le più antiche la corsa campestre quindi essa prepara a tutto a quello che può essere l'atletica in generale Beh, d'inverno bisogna anche sapersi adattare Allora, non me ne voglia Danilo ma io vorrei dire il passato e il futuro perché più o meno tante quanti anni hai tu Ruggero? Dieci e undici Undici E tu invece Valeria? Tredici Sedici Allora, avete corso tutti e due stamattina Tu che hai fatto? Allora, io sono arrivato secondo però stavo quasi per superare il primo Allora, all'inizio stavo molto vicino Alla fine ho cercato di superarlo ma alla fine non ce l'ho fatta Hai perso in volata insomma? Eh sì E tu invece Valeria? Io ho vinto anche perché ero da sola nella mia categoria e è andata bene Senti, tu però sei un po' la punta di diamante di questa squadra di questa società perché tu fai anche altre specialità Dicci un po' di che cosa ti occupi e quale ti piace di più? Allora, io faccio le prove multiple e cioè quattro prove i 60 metri ostacoli il salto è lungo i 1000 metri e il lancio del Vortex E quale ti piace di più? E quale di meno? Eh, di meno il Vortex Perché? Eh, perché non mi piacciono tanto i lanci e poi mi piacciono di più i 1000 e il salto è lungo Senti, sui 1000 metri sei più forte tu o tuo padre? Non lo so, penso io Ci hai mai provato a correre e a batterlo? No Però, però sarebbe bello, eh? Eh, sì Senti, da grande che vuoi fare? Eh, ancora non lo so Vabbè, deciderai Tu invece Ruggero, da grande che vuoi fare? Eh, io da grande vorrei fare l'architetto Però, mi alleno anche per andare alle Olimpiadi Ah, e su quale specialità? Eh, corsa veace Quindi sei un velocista? Sì Lo conosci Usain Bolt? Eh, sì E ti piacerebbe essere come lui? Sì Danilo, ho detto che loro sono il futuro Tu fai parte del presente e del passato Ecco, che cosa significa per te avere una ragazzina come Valeria che promette tanto e bene? Quanto tempo ti porta via? Eh, tantissimo Noi, noi tecnici dell'USA praticamente è come se facessimo un secondo lavoro è un lavoro quello, è una missione portare i ragazzi a poter riuscire nelle loro discipline con le loro doti noi dobbiamo essere bravi e capaci a capirle e a somministrarle a loro nel modo giusto oggi ad esempio è una giornata particolare perché è un paesaggio così innevato un terreno molto particolare perché non so se ci capiterà in futuro di avere un percorso uno scenario del genere veramente viene la pelle d'oca a pensare quello che è uscito oggi è una cosa naturale noi abbiamo disegnato questo percorso con Alessandro e mentre lo facevamo diciamo, sa, noi forse ai nostri nipotini racconteremo qualcosa che difficilmente si vivrà di nuovo un terreno completamente battuto dalla neve senza fango senza assolutamente pericolo, diciamo così chiuso al traffico, nella natura che cosa vogliamo di più? un trittico campestre promosso da noi appunto per avvicinare i giovani e i meno giovani abbiamo visto il successo della partecipazione anche dei nostri potisti locali a una disciplina fondamentale e preparatoria a livello potenziale per le prossime maratone e gare ufficiali siamo arrivati al momento dei saluti ma prima diamo il solito sguardo al programma della prossima settimana il programma che riguarda il calcio tempo permettendo per quanto riguarda la partita fra l'Avezzano e il Sansepolcro il recupero si vocifera che potrebbe essere recuperata mercoledì 18 gennaio ma vi daremo notizia nel corso dei nostri telegiornali per quanto riguarda invece il calcio della prossima domenica in Serie D l'Avezzano giocherà fuori casa adesso ha due partite fuori l'Avezzano in successione prima il Flaminia e poi il Foligno vi ricorderete almeno i tifosi dell'Avezzano ricorderanno che nelle prime tre partite nel girone di andata l'Avezzano conquistò a nove punti tre vittorie consecutive staremo a vedere se sarà capace di fare altrettanto anche nel ritorno quindi in Serie D Flaminia-Avezzano nel campionato di eccellenza sempre neve permettendo Virtus Teramo-Paterno e Capistrello-Morodoro questi gli impegni delle due marsicane in promozione Luco dei Marsi-San Gregorio San Benedetto-Santo Mero riprenderanno ovviamente anche i campionati di calcio a cinque quindi se non ci saranno altre interruzioni si dovrebbe ricominciare con il ciclo normale è tutto anche per questa prima puntata del 2017 grazie a tutti per la cortese attenzione come sempre arrivederci a domenica prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti